ciao a tutti ragazzi nuova sbc dedicata a chiellini flashback andiamo a vedere se ci conviene o meno sbloccarlo ma prima di farlo mi raccomando un bel follow al canale youtube passiamo in game eccoci qua eccolo qua chiellini flashback alto 187 normale in attacco va bene ottimo alto in difesa non potevo aspettarmi altro abbiamo mossa abilità 2 stelle e piede debole 3 stelle vabbè ce lo facciamo andare bene per un difestore centrale ok ci sta passiamo agli attributi allora abbiamo 80 di velocità con 79 accelerazioni 81 di scatto un po troppo troppo lento per il metagame che si sta un po effettivamente proponendo in questa in questa fase di gioco che sarà sempre più rapido quindi attenzione giocatore un po troppo lento sul tiro non diciamo nulla tanto non andrà mai praticamente a tirare 72 di passaggi con passaggio corto 80 e lungo 80 sono interessanti come statistiche dato che ci permette una ripartenza sia corta che lunga abbastanza precisa il dribbling invece purtroppo essendo giocatore molto corpulento chiellini è poco agile quindi non ci possiamo aspettare che sia molto rapido quindi attenzione in difesa non buttiamoci magari in dribbling strani difesa 86 vabbè ovviamente il comparto la quintessenza di chiellini è proprio qui intercettazioni 86 faccio sempre fatica a dirlo buono sicuramente elettore difensiva 90 e con 36 è abbastanza automatico quindi insomma in difesa in area sicuramente si fa fatica a superarlo ovviamente attenzione però alle ripartenze delle rincorse con questo giocatore che non è effettivamente rapido passiamo al fisico 86 appunto di fisico elevazione 90 ottimo resistenza 78 un po bassa ma va bene ce la facciamo bastare forza 90 molto molto interessante andiamo a vedere però quanto ci costa l'SBC eccole qua sono tre SBC un giocatore colpi di mercato sull'82 di overall qui ci alza il prezzo sicuramente 83 di media però questo è abbastanza easy e il TOTV con 84 di media qui anche questo è abbastanza easy se facciamo il conto diventa un po' caro a causa di questo giocatore colpi di mercato a meno che non l'avete sbloccato negli obiettivi allora effettivamente si abbatte abbastanza il prezzo se non l'abbiamo negli obiettivi ci costa più o meno 90 100k quindi non è elevatissimo ma per il giocatore secondo me che è a chiellini io non li investirei questi 100k anche perché mi sembra un giocatore abbastanza fuori meta soprattutto per la velocità io vi direi no evitate di fare chiellini ovviamente sul mercato abbiamo giocatori più interessanti quindi lasciate perdere è uscito scrignere in versione la me la sto scordando quella colpi di mercato ed è quindi quello molto interessante vibro il telefonino colpa mia però per il resto chiellini io eviterei ragazzi quindi sfatelo solamente se siete fan del calciatore e basta per il resto possiamo evitare passiamo quindi regia come al solito fatemi sapere nei commenti se l'avete sbloccato e come vi trovate io vi ripeto non è un giocatore fondamentale anzi in questo momento secondo me è già abbastanza obsoleto quindi lasciatelo pure lì e come sempre un bel follow al canale al punto e appunto è un mi piace al video ragazzi al prossimo filmato